La data di oggi non segna solo l'inizio del mese di febbraio, ma anche un nuovo percorso con un ulteriore stretta anti-Covid. Da questa mattina, per andare all'ufficio postale o in banca, per compiere qualsiasi operazione o semplicemente andare dal tabaccaio, non si entra più in maniera libera, ma occorre esibire il Green Pass. Cambiano infatti da oggi le regole sul possesso della certificazione verde, che è diventata obbligatorio ovunque, eccetto che per l'accesso ai servizi essenziali. Si potrà continuare ad andare al supermercato senza Green Pass e comprare qualsiasi cosa, non solo beni di prima necessità. Si potrà andare in farmacia, dall'ottico e nei negozi di articoli medicali ed ortopedici, nei supermercati e mercati rionali, liberamente, così come resta consentito anche l'accesso alle strutture sanitarie e veterinarie, negli uffici giudiziari e delle forze di polizia. Senza Green Pass si potrà infine andare dal benzinaio, nei negozi di combustibili per riscaldamento e di animali. Sempre da oggi inizieranno ad arrivare le multe con sanzioni da 100 euro per tutti gli over 50 che ancora non sono vaccinati. In pratica aspetta i titolari degli esercizi commerciali, far osservare il rispetto delle prescrizioni attraverso lo svolgimento di controlli a campione. Da oggi in pratica, prima di uscire di casa, bisogna assicurarsi di avere con sé non solo la mascherina, ma anche il Green Pass sul cellulare o cartaceo. Cittadini nella maggior parte pronti a sottoporsi ai controlli senza alcuna difficoltà. Doppia verifica questa mattina all'ufficio postale di Pastena, all'ingresso e poi allo sportello. Controlli a campione, quanti entravano dal tabaccaio nel quartiere Torrione, tutti disponibili senza alcuna resistenza. Stamattina per entrare all'ufficio postale ci vuole il Green Pass? No, sì ce l'ho. Si ricordava di questa data del primo febbraio? Sì, sì. Purtroppo sì, però è una cosa necessaria, salve. Quando l'è stato chiesto all'ingresso? All'ingresso e poi prima di effettuare le operazioni. Quindi direttamente allo sportello? Sì, 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 sia all'ingresso che allo sportello. Durante l'attesa nell'ufficio è capitato qualche cliente che era sprovvisto di Green Pass? Assolutamente no, anche se sono entrata con appuntamento, quindi poi subito sono state chiamate e ho avuto accesso allo sportello. Perfetto, grazie. Lo chiedono sia all'ingresso, sia quando bisogna fare l'operazione, il sistema chiede il Green Pass, altrimenti non fa l'operazione. È capitato qualche cliente che è andato via perché non ce l'aveva o non lo sapeva, non era informato? Sì, sì, perché non tutti sono informati, non tutti hanno scaricato, magari hanno anche fatto la vaccinazione, ma non hanno scaricato l'ultimo Green Pass quest'anno. E poi c'è un problema sui Green Pass cartacei. Quello cartaceo tende a rovinarsi, io consiglio di tenerlo sul cellulare, sul telefono, oppure quello cartaceo lo fallo plastificare. Sicuramente per le persone anziane è un po' più difficile. Lo so, diciamo che c'è questa esigenza. Quindi linea di massima stamattina è abbastanza fluido, questo primo giorno di esibizione. Non crea un grande problema, al di là di quelli che già ci sono, insomma, per l'accesso all'ufficio postale. Ho fatto le tre vaccinazioni ed è giusto che ci vuole il Green Pass. Da parecchio tempo che è qui in attesa? No, 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 un quarto d'ora neanche. Sono persone che sono state già controllate all'interno, cosa dicono? No, io non sono entrata ancora, ma non lo so, le persone che escono se ne vanno, quindi non ho chiesto. Non ho chiesto. Signora, lo sa che da oggi entrano in vigore nuove regole per il Green Pass? Solo, solo, solo bene. Quindi? L'ufficio postale, poi me le elenca un po' le altre attività dove entra in vigore oggi il Green Pass. Parrucchieri, estetisti, tabaccai, dai medici da noi no e no nemmeno nei supermercati. E sì nei negozi? Nei negozi vabbè, mi sembrava, no, anche quello però il Green Pass, non il Super Green Pass, proprio quello, diciamo, temporaneo, dai, da tampone, Green Pass da tampone. Legge è provvista di Green Pass? Sì, certo, certo, terza dose fatta, anzi tra poco scade pure, il 27 novembre lo fanno. Grazie a tutti.